Cari amici, cari amiche, anche oggi realizziamo questo video per far vedere l'oggetto a 360 gradi. Allora, stiamo parlando di questa coppia di Babbo Natale. Di Babbo Natale, vedete? Allora, è uno beggi e uno rosso. Allora, questo è appunto per addobbare in questo periodo natalizio o il presepe o il nostro albero, oppure anche per poter fare un pensierino, un regalino. E vi faccio vedere appunto proprio com'è composto. Vedete? E' composto dietro, c'è anche il suonaglino. Vedete? Messo qui. Fa rumore in tutti e due. Niente. Allora, come altezza sono, vi dico l'altezza, hanno un'altezza di 30 centimetri circa. Niente, è tutto. Viene spedito tramite Corriere SDA. In due o tre giorni lavorative dovreste riceverli. Per qualsiasi informazione mi potete contattare. Niente, questo è tutto. Un saluto, alla prossima. Ciao da Giuseppe. Grazie. Ciao da Giuseppe.